Ciao a tutti cacciotti, benvenuti in questo nuovo episodio di Minecraft ETA Allora, allora Ieri pomeriggio c'è stato un live Lo so, avevo promesso che avrei messo un video per farvi sapere che ero in live Ma, dato che alle 4 è uscito Sherlock Holmes di qua di là Non ho avuto spazio per farlo E io ve lo ripeto ancora una volta ragazzi Followate o la pagina Facebook ragazzi Ma quasi tutti hanno un account Facebook Giovani, grandi, piccini Fatelo e saprete quando andrò in live Cercherò di scriverlo con un po' di iperavviso la prossima volta Perché questo è stato anche un po' improvviso per l'appunto Allora, stiamo scendendo Perché ho lavorato un po' durante tale live per circa 3 ore A questo spawner Questo spawner che è anche un design accattivante E mi piace, e mi piace Allora Spieghiamo le cose come vanno spiegate E' qua che si scendeva No Allora Debo scendere E quindi scenderò Allora Ah, comunque penso sia confermato Il bordeaux è più grande Cioè non è che è più grande È più merda Ecco, è più merda Allora, come vedete Anche se Probabilmente non riuscite a vedere molto Ecco Allora Ho messo dei cartelli sulla fila centrale E ho messo acqua tutto intorno Sotto ad un blocco Perché come ci ha suggerito un utente in chat Ehm 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 Mi ha dato abbastanza fastidio Poi Ehm Qui Ho messo Un corso d'acqua E' interessante Guardare un attimo questo Porco demonio Senti Facciamo così E' interessante perché qui Ho dovuto Fare una cosetta Ma spero che non ci spawni Allora Vedete lì C'è una scala Ho scavato uno spazio Ehm Di tre Per uno Ehm In cui Scende l'acqua C'è un cartello Da questa parte In quel blocco Ma da questa parte E la scala Con dell'acqua sopra E un altro blocco Qui Da quest'altra parte In questo modo Ehm Lo scheletro scende E viene trasportato su per la scala Ora questo ce l'ha con me Quindi non va Vattene Ecco La sta salendo Merda Ehm Ehm E in questo modo Ora vanno fino a qui Dove c'è un semplice Ehm Non vorrei dire Elevatore Perché suona male Un ascensore ad acqua Easy peasy Lemus squeezy Ma mori male Ehm Non dovrei Aver lasciato Nulla Dovrebbe essere a posto Ehm Che li porta qui Da qui Li porta sopra Dove c'è un tunnel Che li porta Fino a questo blocco Di glass Purtroppo per I calcoli Che non avevo fatto Mi sono risultati Un po' a sfavore Perché avanza un blocco E in quel blocco A parte delle ossa Che non so perché Siano lì Ehm Come arrivano gli scheletri Li spingono qui E ho ideato Sempre durante il live Cioè ho messo più o meno Un'ora Ehm Questo sistema compatto Per Ehm Mettere E rilasciare La La cosa La La cosa no Quella La cosa Si quella La lava Che è in questo dispenser Se riesco ad accedere Non riesco ad accedere Beh in quello dispenser In quello dispenser Mamma mia Fidatevi Poi qua ho anche Già messo un po' di clay Qua ai lati ho messo Della clay Con dello Con dello Ma son fissato oggi Con del quazzo Ehm Che figo Ma devo fare tutto il resto Ma Si preannuncia Una buona build Una buona build Si questo è giusto Allora direi Che vi faccio vedere Velocemente Quello che è la costruzione Redstone Circa 7-800 di voi L'hanno già visto Ieri in live Anche Direi un migliaio Perché Cambiavano I visualizzatori Praticamente Questo è ciò che succede Clicco il bottone Compare e scompare La lava In successione Molto rapida Praticamente Dal bottone Andiamo a un circuito di redstone Che va a un circuito monostabile Che per chi non lo sapesse Costituirò da un pistone Sticky piston Ehm E un blocco sopra Quindi arriva l'impulso Che dà l'energia a questo blocco Che dà l'energia a questo Questo blocco Cioè il pistone Alza il blocco E quindi interrompe l'impulso Che nel frattempo Però è già arrivato qui Quindi dà un impulso Di un tick esatto Da repeater Che è lungo Diciamo È impostato su tre Ehm Per tenerlo Diciamo Per tenere l'impulso Più a lungo Va Ehm Fino a qui Qua Per capricci meglio Metto questo Così vedete Il passaggio Va a questo blocco Che aziona Il dispenser Da qui Ehm Doppio repeater Uno completo Cioè con quattro tick E uno con un tick Per arrivare a cinque tick Ehm Che poi va di nuovo Al dispenser Questo per avere Successione rapida Penso sia un tick Proprio questo È essenziale Che sia un tick Perché altrimenti Guardate Se io faccio tipo Così No Va bene lo stesso In realtà Ok Fail Però se tipo Metto Quattro qui Espono uno scheletro Per la prova Come vedete La lava Potrebbe essere Restata troppo a lungo In questo caso Non ho sentito Danno da Da lava Quindi Potrebbe ancora essere Buono Ma non penso Non penso Perché c'è stato Troppo Infatti è morto Se invece io rimetto Il mio Un tick E clicco Qua era su tre Sì Ah Questi blocchi Sono solo per impedire Che muoia Per le fiamme del sole Come potete vedere In pochi istanti Sarà Possibile Killarlo Con un colpo solo E tada E ci avevo messo tipo Un'ora Per fare sta roba Lo so Sono nob Però Ehi Ora Quello che dovrò fare In questo episodio Che conto di fare In questo episodio È Rimodellare Ah scusate un attimo Devo Maxare il frame rate Che l'avevo abbassato Per il live È Diciamo Un dei design Di questo Di questa Stanza ovale Cioè Altra quella del presidente Degli stati uniti Poi Mi è la stanza vera Ovale E E niente Poi Anche magari Qualche Una piccola farm Di patate E Eventualmente Una cosa Come si chiama Un 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 Enchantment table Una cosa che invece Voglio fare ora Insieme a voi È quella Che livello siamo Sono a livello 24 Livello 24 Facciamo così Non proprio così Voglio andare Sì ma che cacchio Oh fratello Cos'è sta roba Ma io fucking chiedimi E E Dove Illuminare Tutta sta roba Ora Per chi non lo sapesse Il principio Dei mob spawner È Che ci sono Un tot Di spazi Per Gli spawn Dei mob E i mob Possono spawnare In tutti questi spazi Quindi se io rendo Degli spazi Non disponibili Per lo spawn Il mio mob spawner È più efficiente Che è quello che Ogni bravo Minecraft Oddio Sopra un lago di lava Ora arriva Lo scheletro Il caso Io muoio No ok Sono ancora vivo È quello che Ogni buon minecrafter Fa Ogni buon minecraftaro Anche se fa troppo romano Ciò che tutti dovrebbero fare È illuminare Una zona Di circa Cos'è 50 o 60 blocchi Di raggio Che non è poco Non è poco 50 o 60 blocchi Di raggio In questo caso Mi sono già perso Non so più come ritornare No scherzo È di là E purtroppo Non sono stato Molto fortunato Se fosse stato Tipo Un'unica Ma vaffanato Un'unica caverna Ha una cosa importante Quando costruite Il vostro spawner Siete sicuri Di costruire La zona Di raccoglimento E uccisione Dei mob Qualsiasi Essi siano Siete certi Di metterlo Entro 17 blocchi Dal La voglio Sto roba Entro 17 blocchi Dallo spawner Per lo spawner Intendo proprio Il blocco Non magari La stanza Che avete fatto voi Proprio il blocco Dello spawner È molto molto importante Perché è entro Quei 17 blocchi Che secondo la wiki O beh Secondo quello che io Mi ricordo di aver letto Nella wiki Spawno i mob Oltre No Infatti A differenza Dello spawner Normale Di ogni mob Ehm Praticamente Fammelo Spawno i Quando io Sono in una caverna Entro Uno spazio Di circa 30 blocchi Non può Spawnare Nessuno Per capirci Spendiamo un po' Di dirt Questo Sono io No Questo sono io Più realistico Che cammino Sono in una caverna Mettendo che Un blocco Siano 30 blocchi Di minecraft Il primo mob Che mi può Spawnare Se io ho appena Cambiato da Hard A Da peaceful A hard Possono essere qui 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 E così via Quindi come io Cammino Incontro i mob Che ho spawnato Quando mi trovavo In questa posizione Con gli spawner È il contrario Mettendo in caso Che questo sia Il mio blocco Spawner E questi Siano 30 blocchi Fino a quando Io arrivo a metà Di questo Di questi 30 blocchi Cioè fino a qui Il mio spawner Non funziona Ed è per questo Che la maggior parte Delle farm Sono costruite Appunto Accanto A una cosa Se no per me Sarebbe molto comodo Se ci fosse anche Un metodo Magari Di Oddio Ah no Se fosse uscito Se ci fosse anche Un metodo Di Magari Di Di Chunk Di Chunk Keeping Di Chunk Loading Ma Arì Me li portavo Questi Dischi Direttamente Fino a casa O qualcosa del genere Te mi fai paura Perché Quanti sono ora Sono 25 cose Sono quasi a livello 30 Infatti mi sa che andrò A incantare qualcosa Non so ben cosa Perché non ho diamanti E di solito Mi piace incantare le cose Di diamanti Ma vedremo 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 Ok Basta Che cazzo È appena Successo Eh Stavo andando Nel nether Per prendere Del quarzo E mi sono Ritrovato Un creeper Nel culo Ora Io spero Ci sia tutto Quello che ci deve essere Che se no io qua denuncio qualcuno Ho l'accendino Che è importante Non ho più la pala Nel resto Ma che cazzo ci fai te qua Mori Capra 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 Ti rendi conto Ti rendi conto Ma te ne rendi conto Ma spero anche di si Ho perso le bistecche Ho perso le bistecche Ah no ecco le bistecche Grazie Grazie Eravate Vabbè Sono cautela al cielo Ma io per me Ecco Questo ci insegna Ehm Ho perso anche la cobblestone Vabbè Ehm Io ho perso qualcosa Me lo sento Cos'è l'importante Cosa c'avevo in inventario La barca Ecco Sì è importante Come ci arrivo Ti rendi Ma te ne rendi Ma ti immagina La mia reazione Io entro nel nede Ah vado a prendere Un po' di quarzo Molto sciallamande Uno uno Ah no Ce l'ho la cobblestone Vabbè Non penso di aver perso niente Ah ho perso un bicchiere d'acqua Ti rendi conto Ma io non ho so Ti rendi Ma boom Ma stiamo Ma un po' Ma stiosi Ma c'hanno Un cazza fatto Giorno Dio Mi lascia Alla Ackbar Ah boh Ehm Che vi devo dire Ando a farle Ah vero Qua c'ho un botto di spruce food Ehm E niente Ora farò delle porticine Per impedire Che qualsiasi mob del Kaiser Possa Possa entrare nel neder Ma i mob del Kaiser Mi vanno anche bene Ma non un creeper È Kaiser Più Kaiser di così È Kaiser Cioè ti rendi conto Ma io non lo so Ma spero ti possa render conto Ma sul serio Anzi Ma cos' Ma 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 schinau Iarla Gnau Ila Laba Alla Ti rendi conto Io davvero Non lo so Ma te ne rendi conto Ma io spero Ne possa render conto Perché sono rimasto ancora Trematizzato Guarda Solo il power Sbluopla E qui per Ma te rendi conto Mappo del mappo Ma io Cioè io proprio Io non lo so Cioè Poi ci lamentano Che l'Italia di qua La crisi Ma finché entrano i creeper Nei portali È ovvio Eh Guarda uno cosa tocca fare Cioè dimmi te Se è una cosa estetica Mettere della cobblestone Su un portale No dimmi te Ti prego Dimmelo Dimmelo ancora Come estetico Perché non ci credo E il colmo C'è tipo Dopo quando torno Sono chiuso là dentro E mi sploro un creeper Di nuovo Addosso No Mi sono accorto Della cosa più preziosa Che ho perso I 28 livelli Di mortacci sua Creeper di merda Ok che non ci vuole un cazzo Con quella no Che mi sono appena fatto Allontanati da me Che devo scavare Se ti metti in mezzo Poi sul cazzo Vabbè forse riesco A liveare un livello 30 Se Merda Oh Oh si scende Attenzione Colpo di scena E suca 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 Ma quanto cazzo Ma che cazzo Caverne anche nel nether Della serie Perché noi può Ho paura Si ferma questo Sembrebbe di sì Fermati Oddio la lava La lava che sento Niente Questo sarà quello che farò per i prossimi Non so minuti Accogliere quarzo Perché ne serve davvero un botto Cioè In realtà il quarzo che serve è relativamente poco Il problema è che per raccogliere ci vogliono Non dico secoli Di più E per fortuna Che la generazione Mi aiuta Insomma C'era un botto Di sta roba Ma quanto Aaaaa Ua ma dove cacchio va sta roba E ci vogliono tre anni qua Per Cioè guarda Guarda Un blocco quanto ci mette 10 15 secondi Qua ci va al minimo 10 minuti Per levare tutta sta roba Calma Calma Il sangue è freddo Andiamo a cercare del quarzo di là Ehi You What's up Oh Ok Is here any quarzo Pliats Pliats Just a little bit Oh fuck you Bene Io non so dove vada questa caverna Sempre se si può considerare una caverna Ma ho paura di andarci Ma che cazzo Ma dove cacchio Porta a Narnia Alto che l'armadio In realtà è una caverna nel nether Che porta a Narnia E che cacchio lo sapeva Riuscirò ad andare a farmi quel salto Oh si Ah c'è il bedrock Bene Come specare il tempo Ecco un'altra cosa che ho perso Le frecce Penso di averne avute di più Ho solo una freccia Non devo sprecarla Non l'ho sprecata Ma non è bastata Mi sono fottuto Devo Vai colpisci mi C'è anche il quarzo nel mezzo Non ho portato Vai Vai No Si va bene Milano Oh 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 Vai Colpisci mi Ho detto colpisci Eh micchia E se fa proprio Mila Mila Esci Alto che Mila Proprio Mila Esciro Due quali nella palla Volo Mila Esciro Ma micchia Non mi colpirai mai Oh 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 Si va bene Un altro po' Oh oh Holy shiat Oh che cos'è Ma cosa sei Ti odio Oh si una gas tear Holy shiat Calma In questi casi ci vuole tanta calma e sangue freddo no E' la tecnica del bianconiglio Anche se Mi sa che in questi casi la tecnica di baglioni è più utile Cioè prendiamo e ci leviamo dai coglioni Mi sa che è davvero più utile Utilità over 9000 Attenzione Attenzione Colpo di scena Prende il quarzo Lo prende tutto C'è davvero un botto di quarzo Un lago di lava Colpo di scena Ma che carino Ma che carino Che dite Una barca funziona nella lava Non l'ho mai provato E non so perché Oh guarda Cadrai nella lava Non è decisamente colpa mia Ah Non vale Sei Non vale se giochi in casa Ti piace vincere facile Piezze e mierda Ehm Oh magari qui c'è altra roba Non fischiare così Che dai fastidio Che cazzo fai Non ti metti in mezzo Che se scavo poi ti colpisco Poi sono cazzi mia Poi sono Uccelli per diabetici Che per chi non avesse capito Sono cazze amari Ehm Bene Ora io come faccio a tornare Ora non mi bastano Questi quarzi Questi quarzi C'è qualcosa Un po' di quarzo Qualcosa Zero Quazzo 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 Li morta Calma Ci vuole calma Nella vita Stupido ghast E smettila di piangere E smettila di piangere Merda Tra le fragole Ok Un po' di gusto Non mi fa Non mi da fastidio Eh L'ammetto Aha Give me the gusto You motherfucker Give me this Give me that I just wanna Fuck you In the anus Oh shit Quanto è Sono altri sette SETTE Ehm Molto bene Molto bene I think we can go back now Maybe Maybe yes Maybe no Who can no Me no For sure Ah no Qua da dove sono sceso Oh Calma Mortacci Su Alli mortacci Su Alli Ristri Mortacci No 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 Non mi piasa Non mi piasa Per davvero Porca c'è la miseria Ma l'hai visto Se non mi spostavo Wow Mamma mia Stai pazzo Stai pazzo Mamma te lo giuro Questo è l'ultimo Caffè che bevo Mi sa che questa non è una buona strada Per prendere Il quarzo Prima di esplorare di qua Ehi mamma te lo giuro Questo è l'ultimo caffè che bevo Marco ha detto di no alla caffeina Di anche tu di no alla caffeina Didi si A caffè e soia Oli sciat Mortacci 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 Oh Sciat Corri Vedo il quarzo 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 Oh merda 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 Quarzo 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 Oh Shit 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 Ma quanti cazzo sono quanti cazzo sono? oh merda 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 quarto 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 scendi 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 quarto quarto oh merda merda quarto quarto senti parliamone io ti amo e se il tuo è un amore in come ti sp... no 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 ok scherzavo su elmafrodita si ma io come faccio a tornare a casa no ma non me lo dici oh shi ma quello è quarzo prendi il quarzo prendi il quarzo 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 oh merda no oh ma quanti cazzo sono? gli stramortacci di pippo neanche di agnese che agnese è una porca ok qua c'è troppo quarzo per lasciarlo qua ok na 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 qui è sui da glissima mission impossible prendi il quarzo e scappa 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 usciate 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 no che cos'è mamma mamma ho paura ma che cos'è? oh ho paura ma ce Government oh ma puoi oh no ma qui ohime oddio ma che cos'è mamma Oh ho chasppa oh ma che cos'è mamma ho chi ho uno stack di quarzo che è trasmutato in slab praticamente è il doppio quindi sono circa per eccesso due stack che dovrebbero bastare per almeno il pavimento dello spawner e a questo punto le pareti non le farò di quarzo con ricordi scappaci al nemesis corri scappaci al nemesis da un infarto di cuore uscite sento dei rumori merda viene sempre devo riempirlo di torce con le rovi a sta anche piovendo di dd di ggg 11 ore ma che cosa perché casa questa è proprietà privata esci capone testimoni di mueva muovati muoviti via dal nuovo ok 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 ho terminato tutto il corso mi sono anche avanzati dei blocchi gg a sto punto paio di glow stop che parte li metterei anche tipo qui ai lati non so mai ci sta fa vedere si è penso ci stia minchia non posso metterglielo e allora no ok no perché mi stai antipatico eeeh no e no devi devi capire che non puoi stare simpatico a tutti eh minchia cioè spermi di a4 spermi di a4 oh si cioè in realtà mi ha dato i due però gg eeeh e beh beh poi vedremo dove mettere ste robe comunque per questo episodio è tutto io vi saluto ciao turuturututti grazie grazie grazie